La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo L'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno, ben ritrovati alla rassegna stampa di questo sabato 29 ottobre una rassegna stampa che ci porta nella prima parte a leggere le prime pagine dei quotidiani Oggi in Edicola e lo facciamo partendo come di consueto dall'edizione nazionale del mattino di Napoli si apre con il terremoto in primo piano manca un miliardo i sismologi, epidemia di scosse si allunga la lista dei comuni da ricostruire caccia a fondi aggiuntivi tragedia sulla Milano Lecco cade il ponte un morto e cinque feriti l'Anas accusa allarme ignorato la provincia aveva rinviato la chiusura l'esperto strutture degli anni 50 ormai giunte a fine vita in taglio centrale manovra e deficit l'Europa ora ha preso dati polemica governo Boeri ma sui profughi elite tra Renzi e Orban a centropagina si parla di sport Napoli a Torino è l'ultimo treno Sarri conferma Cagliacone Mertens e Insigne Zoff per gli azzurri è decisiva la sfida Iguain incendia la partitissima Allegri i nepoletani gli siano creati Maxi Schermo intanto installato davanti al San Paolo anche il sindaco di Napoli De Magistris parla di Iguain Gonzalo traditore qui non sarebbe ospite gradito in taglio basso De Luca a giudizio per la piazza di Salerno il governatore accusato di falso insieme con 25 tecnici e imprenditori mentre se il Papa Gesuita rivaluta Martin Lutero Francesco Lunedì in Svezia riforma e scrittura i cattolici imparino questa era la prima pagina del mattino andiamo siamo sul mattino ma andiamo sulla pagina dedicata a Salerno piazza della libertà De Luca a processo questo è il titolo di apertura a giudizio per falso con l'ex giunta i difensori sono scelte politiche non tecniche tra le 25 persone sotto accusa dirigenti funzionali tecnici e imprenditori il governatore sono sereno piazza Cavour la sentenza comune K.O. sui parcheggi università boom di iscritti a ingegneria in flessione giurisprudenza poi referendum Franceschini financia il sì un magistrato per il no a deboli il PM Olivieri a un dibattito promosso da sinistra a destra e ampi o proprio giuridico l'articolo 70 poi ancora il caso Vigili concorso nel mirino della commissione mentre in la fotonotizia si parla di Salernitana San Nino all'assalto del Pisa con i tre tenori voglio una Salernitana cattiva e coraggiosa servono 11 Gattuso ma colorati di Granata è il commento di Nando Di Francesco che gioca proprio con l'ex Granata Gattuso e ci vorrebbero 11 con lo spirito del tecnico del Pisa ma che ha vestito appunto la maglia Granata questo pomeriggio allo stadio Arechi lasciamo il mattino e iniziamo la carrellata delle altre prime pagine dei quotidiani Ogini Edicola partendo da cronache del Salernitano De Luca a processo questo è il titolo di apertura giudizio altre 25 persone l'ex giunta funzionari comunali e imprenditori piazza della libertà l'ex sindaco accusato di falso in atto pubblico per la variante in favore della Esa Fonderie Pisano opera del sindacato all'interno di cronache Salerno scoperto il market della groga due arresti nel villaggio dei Puffi poi ancora taglio centrale piazza Cavour Andreozzi batte il comune e si riprende i parcheggi Salerno ruota panoramica senza le certificazioni antisismiche piano di zona scoppia la polemica il sindaco cuofano sotto accusa Castellammare lo sfratto del PD fa aumentare la crisi in vista delle elezioni del segretario locale referendum Piero De Luca in aumento il fronte del sì mentre per lo sport dopo Breda Gattuso mettiamo pure Zenga c'è il Pisa all'Arechi con Righio in banchina ma la salernitana deve vincere per allontanare lo spettro della crisi tifosi Granata intanto aggrappati ai ricordi di Gattuso ex trainer ex giocatore dei Granata lasciamo la prima pagina di cronaca del salernità noi andiamo sulla città di Salerno sempre la questione De Luca in primo piano nei guai il capocantiere De Luca Piazza della Libertà tradito dalla smania dei controlli sarà processato per falso faccia a faccia in tv referendum Renzi De Mita un confronto impossibile la propaganda Salerno Franceschini spinge per essi tour dei grillini la sentenza del Tar vincono i costruttori via libera anche per i parcheggi di Piazza Cavour salva il via anche per le luci la notte bianca c'è la tregua tra i vigili e il comune autovelox sulle vie del mare e voli copi agropoli per fare cassa tre apparecchi in arrivo ed è già polemica in taglio alto si parla di sport c'è Juve Napoli la super sfida visse dei tifosi mentre al pomeriggio Zannino si aggrappa al talento di Rosina per tornare alla vittoria oggi alle 15 in onda Salernitana Pisa questa era la prima pagina della città di Salerno andiamo ora invece su Metropolis anche qui la notizia di De Luca ha processo in primo piano sono in 26 a giudizio con il governatore l'ex giunta comunale tecnici e imprenditori contestata la variante milionaria per piazza della libertà la difesa di Franceschini e Napoli aspettate le sentenze referendum sì del ministro e sfida al suo PD la riforma no trasversale Roscia si sfila Salerno caso gettoni il giallo dei tagli poi ancora i vigili evitano il caos agitazione rientrata all'inizio delle luci è salvo Salerno spacciano nel villaggio dei Puffi droga nella camomilla sono due gli arrestati Manetto Lazio Maestro e Francesco Mascia poi la pagina sportiva c'è Salerno di Tanapisa Sandino Ringia per battere Gattuso vietato a sbagliare per il Granata oggi alla Rechi serie D i tifosi della Cravese gragnanesi amici proteste per il divieto nel derby e infine torna l'ora solare questa notte alle tre bisogna portare le lancette dell'oroggio un'ora indietro questa era la prima pagina di Metropolis chiudiamo la nostra lunga carrellata andando a leggere l'apertura della nuova del sud del quotidiano lucano giunto anche oggi nella nostra redazione in primo piano la truffa dell'accoglienza numero di migranti gonfiati per ottenere più soldi ai domiciliari responsabili di una società per richiedenti asili molti degli migranti ospitati a Potenza si trovano altrove le intercettazioni sono già pronti fogli di presenza per tutto il 2017 altri due indagati per presunto accordo su una gara da 9 milioni di euro il parco il parco vald'agri un'agenzia di collegamento per enti comandanti tra la segreteria di Pittella e i comuni in taglio centrale il palazzo della banca d'italia alla mph l'azienda da Potentina si aggiudica all'asta immobiliare a Matera investimento da 4,8 milioni di euro porterà nuova occupazione questa è la domanda che si ci pone liste d'attesa record tra San Carlo e Madonna delle Grazie fino a 374 giorni per una visita reumatologica Napoli di Forza Italia la riforma sanitaria è virtuale altre Salerno Reggio Calabria in fuga con 20 mila euro rubati due arrestati poi ancora in taglio basso si parla di sport Fulzal tra rivincita e rassegnazione in A2 il Policolo cerca il riscatto mentre Matera schiererà l'Under 21 ad Eboli in serie B il CMB tra le Muramiche fuori casa Bernalda e Shaolin per il volley serie B giocoleria di scena a Locarotondo mentre tra le donne match interno per il Cos Potenza arriva il Lamezia questa era l'apertura della Nuova del Sud noi con la Nuova chiudiamo la prima parte della nostra rassegna stampa ci vediamo dopo la pubblicità per la seconda parte seconda parte dell'edizione della rassegna stampa di questo 29 ottobre 2016 che riprendiamo leggendo le pagine interne dei quotidiani oggi ne dicono lo facciamo partendo dalle pagine di cronaca locale proposte dai vari quotidiani campani partiamo dalla città di Salerno in primo piano la Mingardina pericolo crolli la strada rimane chiusa le prime piogge hanno provocato il distacco di pietre dal costone roccioso disagi per i collegamenti tra Palinuro e Camerota a un summit al comune la Mingardina resterà chiusa in attesa della messa in sicurezza del costone roccioso lo hanno stabilito i tecnici della provincia che ieri hanno effettuato un sopralluogo insieme ai rocciatori questo il messaggio che è emerso ieri intanto sulla statale arrivano le reti paramassi l'ANAS ha affidato i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino e l'integrazione delle barriere paramassi lungo la strada statale 18 tirrena inferiore l'appalto permetterà l'inserimento di reti paramassi per il sostegno del materiale roccioso presente su alcuni trasti del versante sud ovest Vallo della Lucania la giunta chiede di far nascere l'istituto agrario poi sapri hotel e case nell'ex cementificio la società proprietaria dei suoi lì presenta il progetto di recupero a Caggiano 10 posti a rischio assemblea alla centrale idrica ieri mattina 10 lavoratori della centrale idrica di sollevamento di Caggiano sono in assemblea permanente l'impianto fornisce acqua a diversi comuni del Valo di Diano in particolar modo a quelli che si trovano nell'area nord del comprensorio Sant'Arsenio San Pietro Altaneagro Polla per Tocacaggiano e Salvitelle questa era la pagina di cronaca locale proposta dalla città di Salerno ora andiamo invece sul cronache del Salernitano che nella pagina di Cilento e Vallo di Diano parte da Albanella il sindaco Iosca proclama il lutto cittadino per la scomparsa di padre Antonio Russo il sacerdote è morto nell'ospedale di Vallo della Lucania nato a Nocera Inferiore e la parroco presso il santuario di Santa Sofia Ascea ammazzato con calci e pugni da un giovane rivale in amore i magistrati romeni hanno ricostruito quanto accaduto il 65enne Antonino Sess residente di Ascea sarebbe rimasto vittima di un'aggressione perdendo la vita in seguito ad una serie di calci e pugni ricevuti la salma dell'italiano non è stata ancora liberata la procura romena vorrebbe un'altra autopsia poi l'auto articolato fuoristrada forti disagi alla circolazione poi in taglio basso Caggiano lavoratori della centrale di sollevamento in acitazione contro il passaggio al lato sindacati ed operatori contrari alla dimissione gestionale dell'impianto che serve sette comuni infine Capaccio Pessum Sancta Venere una mossa di arte contemporanea nell'ex stabilimento Cilio la scelta è caduta sullo stabilimento ancora giusto al pubblico ma interessato già da una vasta opera di restauro questa era la pagina interna di proposta la cronaca del Salernitano andiamo rapidamente anche sul mattino di Napoli nella pagina dedicata al Cilento e Vallo di Diano si parte da Vallo della Lucania svolta parco meno vincoli sull'edilizia semplificate le procedure per realizzare piccoli interventi in alcuni casi sufficiente l'autocertificazione si tratta di una risposta ai cittadini buon abitacolo Cunzolo condannato il ruolo del testimone morte di Casalnuovo motivate motivazioni depositate questi i due argomenti principali trattati dal mattino restiamo sul mattino ma cambiamo decisamente argomento apriamo la pagina sportiva è il giorno di Napoli Juventus questa sera allo stadio di Torino le due squadre si affrontano per quello che è il match di cartello di questa giornata di campionato di serie A lo sport del mattino titola l'ingrato 9 l'attesa senza sorrisi Iguain ritrova il Napoli la vigilia taglio della barba e dei capelli poi lunga seduta di massaggi a Torino l'argentino cena in un locale con vista sul Po ed è amico di Bala di improvviso svegliarsi un mattino sapendo di essere un amico registrare lucidamente magari dopo averne allontanato il pensiero per tre mesi che davvero il Napoli la sua ex squadra e che stasera sarà un avversario un rivale per la prima volta dopo 146 partite giocate con la maglia azzurra e 7 Juve Napoli in campo ci sarà il giorno in cui Iguain sarà dalla parte bianconera sicuramente non ci saranno fischi si gioca allo stadio in assenza dei difusi ospiti ma l'accoglienza quella più importante si avrà nel match di ritorno intanto il doppio ex Altafini di consiglia Iguain dice Gonzalo esulta se fai gol bisogna finirla di non fare giocare i calciatori contro le loro squadre precedenti ci sono calciatori che non esultano quando segnano contro l'ex squadra ma è una cosa sbagliata uno gioca per una squadra ed è giusto che faccia bene per chi lo paga Napoli quando andai alla Juve mi fischiarono per tutto il tempo così Altafini che è stato già in passato tra virgolette vittima di questo passaggio tra la Juve e tra il Napoli e la Juve in taglio basso vi racconto quando Gonzalo Iguain faceva i corri contro la Juve sul mattino un'intervista al direttore della location di Via Mazzoni dove l'argentino festeggiò i 28 anni dieci mesi fa esposito scatenato a Caleote sorrideva quando gli chiedevano se stava per lasciare la città restiamo sulla partita di questa sera l'amato 9 Mertens un gol a Torino per lo schiaffo a Gonzalo il Jolly decisivo a sinistra si è subito adattato al nuovo ruolo al centro dell'attacco la chiave la velocità può essere decisiva contro la super difesa bianconera questa la situazione con Mertens chiamato anche questa sera a fare il falso 9 Rocchi sarà lui a dirigere la sfida dello stadio con lui allo stadio 0 a 3 finì tre anni fa intanto lasciamo ora la pagina dedicata a Napoli Juventus Napoli per avvicinarci invece più alla serie B e avvicinarci anche più a noi con la pagina dedicata alla Salernitana una Salernitana che dopo diversi pareggi si trova quest'oggi a dover affrontare il Pisa di Gattuso e si cercano i tre punti Rosina va alla ricerca del gol perduto l'ultima rete del fantasista 45 giorni fa contro il Vicenza alla Recchi la Salernitana si affida al suo talento per vincere è probabile un 4-4-2 super offensivo quello che metterà in campo mister Sanino con Rosina e in prota sulle fasce coda Donnarum al centro è un 3-5-2 quello che disegnato dall'ex Gattuso con Varela e Montella in avanti Longhi e Golubovic sulle fasce esterni alti questa è la situazione ad agosto la partita terminò i calci di rigore con i Granata eliminati dalla competizione oggi intanto anche le altre gare con il Benevento che ospita lo Spezia di cartello senza dubbio poi c'è Carpi Ascoli Cittadella Latinente la Brescia Frosinone Cesena Salernitana Pisa domani alle 15 Verona Trapani al 17.30 Vicenza Perugia lunedì si chiude con Spal Avellino ritorniamo sulla partita della Salernitana con Gattuso che alla vigilia sceglie il silenzio non parla l'ex tecnico tra le altre del Palermo e tecnico del Miracolo Pisa alla partita di oggi intanto sarà assente l'ex Granata Eusepi l'intervista della città quest'oggi è l'ex Granata Alessandro Del Grosso protagonista con la Salernitana di Delio Rossi in cui militava anche Gattuso della storica anno in Serie A voglio bene a Gattuso dice Del Grosso ma oggi tifo salernitana racconta l'amicizia con l'attuale tecnico uomo eccezionale di grande carisma i toscani devono ringraziarlo questo in sintesi il Del Grosso Pensiero e noi con la pagina sportiva dedicata alla Salernitana chiudiamo questa edizione della rassegna stampa ricordandovi che news e approfondimenti sono disponibili sul nostro sito web 1tvweb.it mentre l'appuntamento con l'informazione torna alle 13.45 con l'edizione pomeridiana del nostro telegiornale a me intanto non resta altro che ringraziarvi per la cortese attenzione augurarvi buona giornata e un ottimo fine settimana che ringraziare a me intanto tornare di mille persone ad